Il suino pesante italiano, un suino tradizionale, è un suino che ha un peso a macellazione di circa 160 kg, con un'età compresa tra i 9 e gli 11 mesi. Questo è un aspetto molto importante perché consente la maturità delle carni e quindi ottenere carni di elevato pregio che bene, perfettamente si adattano alla trasformazione e alla conservazione dei prodotti tipici. Indubbiamente uno degli aspetti però più importanti della produzione del suino pesante è il fatto che vengono controllati tutti gli anelli della catena produttiva. Si risale dal momento della fecondazione degli animali, quindi del concepimento, fino alla macellazione. Dalla macellazione alla trasformazione e al prodotto finale, che viene etichettato. Tutti gli anelli, dicevo, vengono controllati. L'etichetta finale consente quella che viene definita rintracciabilità o tracciabilità se in senso contrario. Le tecniche di allevamento che oggi vengono immesse in atto per la produzione del suino pesante sono tali da ottenere degli animali in buon stato di salute e in pieno benessere. In effetti soltanto attraverso la produzione di animali sani e che stanno bene, quindi non sottoposti a stress, si possono ottenere carni che si trasformano in ottimi prodotti e quindi in ottimi salumi.